Questo video vi ho offerto dal nostro partner NordVPN, 11 settembre, lo so, penserete subito al 2001, torri gemelle, gli aerei che si schiantano sulle torri, un altro che si schianta sul pentagono, un altro che cade, gli attentati terroristici, il mondo che entra in una nuova epoca, un'epoca di terrore, un'epoca di insicurezza, un'epoca accompagnata dal viso parbuto, di Osama Bin Laden, di Ayman al-Zawahiri, la lotta al terrore, il terrorismo islamico, no, non stiamo parlando di quell'11 settembre, prima, ben prima di quell'11 settembre ce n'è stato un altro, un altro non certo meno sanguinoso, un altro degno di essere raccontato, di essere tramandato, di essere ricordato, un 11 settembre che ha cambiato per sempre il volto del Sud America, un 11 settembre che ha introdotto degli elementi di novità sicuramente non positivi, anzi traumatici, un 11 settembre che ha personificato degli incubi, che ha reso reale, ciò che nemmeno le nostre paure più recondite avrebbero potuto mai immaginare. L'11 settembre di cui oggi ci occupiamo è l'11 settembre di 50 anni fa, 1973, Cile, il Cruinto Volpe, che sovverte la democrazia e inaugura la dittatura di Augusto Pinochet. Come già saprete, per i nostri video utilizziamo fonti storiografiche che spesso non sono facilmente accessibili dal nostro paese, l'Italia. Un aiuto fondamentale della nostra opera di ricerca lo fornisce NordVPN, con l'assoluta e sicura libertà di accedere a contenuti in tutte le parti del globo. Che si tratti di film, serie tv, social media, giornali, archivi online, libri da PC, smartphone o tablet, sbloccando un mondo infinito di opportunità, contenuti e notizie. Anche e soprattutto, NordVPN ci permette di accedere a contenuti geograficamente bloccati in diverse parti del mondo, a riparo da occhi indiscreti e sempre proteggendo i nostri dati personali e anche quelli finanziari. Inoltre, per noi di dentro la storia, gli amici di NordVPN hanno studiato una promozione. Potete trovare in sovraimpressione, oltre che nella descrizione del video, il link che riserva ai nostri follower un'offerta esclusiva per il piano biennale. Inoltre, ogni nuovo utente che acquisterà un qualsiasi piano biennale di NordVPN dall'Italia riceverà un buono regalo di Amazon e, come sempre, la garanzia soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni per navigare ovunque in totale sicurezza, tranquillità e libertà. Il Cile, tra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70, è un paese in rapida espansione economica. Il Cile si era mantenuto neutrale durante la Seconda Guerra Mondiale, aveva rifiutato le Havas da parte degli alleati e anche la proposta da parte degli Stati Uniti di vendere o noleggiare alla US Navy la corazzata alvirante della Torre, una vecchia nave costruita dall'Inghilterra durante la Grande Guerra, ma ancora moderna, ancora efficiente, che gli americani volevano rilevare dopo il disastro di Pearl Harbor. Il Cile era rimasto da parte. E, approfittando del boom economico degli anni 50 e degli anni 60, il Cile era diventato una piccola potenza del Sud America. La sua economia andava sempre meglio. Il motivo? Beh, il Cile è un paese molto particolare della conformazione longilidea, ma è anche un paese ricco di risorse minerali, ferro e soprattutto rame. Sapete a cosa serve il rame? Beh, è tra i metalli forse uno dei migliori conduttori per quanto riguarda l'elettricità. Il rame ottiene sempre maggiore interesse da parte dell'industria a partire proprio dagli anni 50 e 60, quando inizia, prima lentamente, poi in maniera inesorabile, l'era del telefono e soprattutto l'era dell'informatizzazione. Il rame è preziosissimo. Il rame viene richiesto sempre, sempre di più. È per questo motivo che l'economia cilena cresce, anzi galoppa. Galoppa accompagnata però da governi non certo progressisti, ma conservatori. Sono governi che sostanzialmente cercano di tenere la crescita controllata anche in base ai desiderati delle grandi compagnie estere che rappresentano in quel periodo il migliore, se non il maggiore o addirittura l'unico cliente di tante ditte cilene. Una di queste compagnie è la ITT, International Telephone and Telegraph. È chiaro che il rame interessa moltissimo all'ITT, serve per i telefoni, ma non c'è solo questo. Ci sono tante altre questioni economiche sul tavolo, ma questo è un video di storia, non un video di economia. Succede che nel 1970 il Cile si appresta a volare pagina. La presidenza conservatrice del Cile non è più così salda, mettiamola così. La presidenza in quel momento è contesa da tre personaggi. Uno è il presidente uscente, è appunto un conservatore, è un uomo che aveva guidato fino a quel momento il paese improntandolo con una certa politica. È l'ex presidente Jorge Alessandri Rodriguez. Poi c'è il cristiano democratico, Radomiro Tomic. Tomic propone una via diversa, raggruppa gli agricoltori, raggruppa la piccola borghesia, quei soggetti che sono scontenti della politica economica di Alessandri Rodriguez. E poi c'è lui, Salvador Allende, che ha una ricetta diversa, una ricetta basata su quella che verrà chiamata la via cilena al socialismo. Attenzione, in quegli anni è pericoloso parlare di socialismo. Vi ricordate la dottrina Monroe? Ne abbiamo parlato in un video apposito che trovate nel canale. Ebbene, la dottrina Monroe portava a identificare gli Stati Uniti come nomi tutelari, per non dire padroni, di quasi tutto il continente americano, Canada a parte. Ebbene, per gli Stati Uniti socialismo uguale comunismo, uguale Unione Sovietica. Non si può parlare di socialismo perché è una parola proibita e per alcuni americani, o meglio per alcuni statunitessi, è l'anticavera dell'ingresso della zona, del babau sovietico. Gli Stati Uniti già sono intervenuti più volte. Sono intervenuti in Nicaragua in maniera non diretta, in El Salvador, a Cuba hanno dovuto fare i conti con Fidel Castro, che ha scalzato Fusensio Battista, che era un po' il guardiano di Cuba per conto degli Stati Uniti e dei suoi interessi economici. Ebbene, gli Stati Uniti non vogliono un nuovo Fidel Castro, non vogliono una seconda Cuba. Cuba è già costata la crisi dei 13 giorni agli inizi anni 60, il mondo che rischia di sprofondare nella guerra termonucleare. Non si vuole tornare a quel rischio. Certo, i tempi sono cambiati, ma le abitudini e i pregiudizi sono duri a morire. Ebbene, torniamo a quelle elezioni. Sono elezioni molto combattute. Nessuno dei tre candidati alla presidenza ottiene la maggioranza assoluta. Anzi, c'è una grande frammentazione. Allende prevale di pochissimo, col 36.3%, su Alessandri Rodriguez, che ha il 35.8%. Capite che la forbice è molto ridotta. Più indietro se Tomic con le 27.9%. Ma il fatto che il programma di Allende sia abbastanza simile a quello di Tomic porta, dopo un po', il Parlamento cileno ad approvare una variante secondo cui la possibilità di costituire un governo del presidente attraverso una maggioranza relativa sia possibile. Allende vale il suo esecutivo. Ed è un esecutivo che si propone per grandi, grandissime riforme. Innanzitutto, nazionalizzazione delle grandi imprese, soprattutto quelle estrative, soprattutto il rame. Perché? Perché per fare le riforme servono soldi, tanti soldi. E quei soldi si possono prendere solo da imprese che generano grande profitto. Certo, nazionalizzare l'industria del rame significa fare uno sgarbo agli investitori stranieri, a cominciare dall'International Telephone and Telegraph, che non apprezza. Poi c'è un sistema sanitario da risanare, c'è una riforma scolastica rimasta a lungo del cassetto, c'è un tentativo di riforma agraria, c'è anche la volontà di distribuire gratuitamente il latte ai bambini. Perché il Cile, nonostante sia un paese ricco di risorse naturali, è anche un paese molto, molto, molto povero. In realtà la nazionalizzazione del rame era già partita prima, col governo di Eduardo Frei. Ma non era completa. Frei si era fermato al 51%. Ebbene, Allende procede all'esproprio di tutto quello che resta e soprattutto non indennizza gli americani. È questo che fa scattare la prima volta di ostilità nei confronti di Allende. Il fatto che ci siano tanti soldi in gioco e che le compagnie estere non intendano assolutamente piegarsi di fronte ai tentativi di Allende di racimolare i soldi necessari a far diventare il Cile finalmente un paese moderno. Questa via cilena al socialismo e insomma all'estero non piace, non piace neanche un po'. Ed è il motivo per cui a poco a poco iniziano i guai, guai profondi, guai che si manifestano sempre di più dopo una visita di Stato. Perché verso la fine del 1971, cioè dopo un anno e mezzo che Allende è in carica, arriva a Santiago del Cile Fidel Castro. Lui, il barbudo, il presidente di Cuba, il grande nemico degli Stati Uniti d'America. Si reca lì in visita di Stato per fare una cortesia, per salutare la via cilena al socialismo. Ma quella visita, che si conclude con un dono da parte di Fidel Castro, un fucile automatico AK-47 Kalashnikov dato direttamente dalle mani di Allende, come la visita dicevamo, dà dito ai peggiori sussuri possibili. In molti osservatori, tra gli stranieri, comincia a dire che la via cilena al socialismo sia in realtà l'anticamera di una nuova Cuba, o peggio ancora, di un abbraccio mortale col blocco orientale, col blocco sovietico. Forse quella visita alla sua chiusura segna anche l'inizio della fine del Cile de Allende. Perché? Beh perché da quel momento in avanti iniziano gli scioperi. Scioperi di interi settori della società cilena. Ogni tanto scioperano alcuni studenti, poi i sindacati, compresi quelli dei professionisti, piccoli imprenditori, i camionisti. E quella dei camionisti è una rivolta decisamente pesante per un paese che si sviluppa in senso longitudinale e che quindi richiede trasporti continui su Uova. Il paese è paralizzato. L'economia, che fino a quel momento era asciuta anche abbastanza bene, comincia a vacillare. Accusa dei contraccolpi. Gli scioperi fanno precipitare la produzione, fanno precipitare il PIL, generano una spirale. Una spirale inflattiva che viene acuita dal crollo del prezzo del rame. Ma questo crollo è artificioso. È un crollo deciso sui mercati per mettere in difficoltà il governo Allende. Sempre per quella storia, sempre per la nazionalizzazione delle miniere e dell'industria. Sempre per quello sgarbo che gli americani non hanno digerito. Il crollo del prezzo del rame determina una spirale, come abbiamo detto, ed è una spirale distruttiva. L'economia cilena, che fino a quel momento era cresciuta sempre di più, si ferma. Anzi, diventa immobile. La moneta cilena si svaluta, si svaluta molto velocemente. I prezzi crescono. Crescono sempre di più. E quando i prezzi crescono troppo, il malcontento aumenta. Aumenta in misura tale che gli scioperi sono continui, di settimana in settimana. C'è anche qualche rivolta, popolare per il momento. Soprattutto in Parlamento, Tomic e il suo partito cominciano a fare fronte comune col partito nazionale di Alessabri. Aiede si ritrova sempre più isolato. Non riesce più a risolvere la situazione. Ci prova. Ci prova comunque. Cerca delle soluzioni. Cerca nuovi interlocutori esteri. Ma non c'è niente da fare. La sua coalizione di unità popolare, pur aumentando i voti alle elezioni parlamentari d'inizio 73, non riesce a governare. Perché? Beh, perché manca affidabilità sul campo. Le categorie economico-produttive, come avevo detto, si spaccano in due. Tra sostenitori di alliende e critici o addirittura oppositori di alliende. E poi ci sono i militari. I carabinieros, cioè la Polizia Nazionale, non vengono ritenuti affidabili. Per un certo periodo il governo è restio a chiamarli in causa per risolvere le proteste o le sommosse di piazza. Perché non sanno mai quanto i carabinieros possano davvero fare interessi del governo e quanti possano invece tentare di schierarsi dalla parte degli insorti. Poi c'è la marina. La marina è fortemente contraria al governo Aiede. Lo è sempre stata e all'inizio del 73 i malumori crescono. L'esercito... beh, l'esercito è più frammentato. Perché, ad esempio, Aiede ha fatto un vero e proprio colpo di maestro. Ha fatto entrare il generale Pra, un uomo risoluto, energico e molto intelligente, un alto ufficiale, nel proprio governo. Lo ha nominato vicepresidente e Pra e riesce a tenere sotto controllo l'esercito. Anche se il 29 giugno del 73 succede qualcosa. C'è un colonnello. Si chiama Roberto Super. E cosa fa questo colonnello? Beh, mobilita un reparto corazzato, con la scusa di un'esercitazione, e tenta il colpe. Porta i suoi carri armati nelle strade. Circonda il palazzo presidenziale, la moneda. Spara alcuni colpi. Ma nel giro di qualche ora, l'intervento di Pra e di un altro alto ufficiale, il generale Augusto Pinochet, proprio lui, riportano la situazione alla calma. Super viene arrestato, i suoi soldati tornano in caserma. Sembra tutto finito. In realtà, il sollevamento di Super è solo la prima delle tante iniziative che porteranno al colpe. Tipo qualche settimana. E Pra si dimette. Non è tanto per la questione di Super o per il malcontento dei carabinieri o della marina. No. Pra è vittima di un incidente. Ma non è un incidente stradale, non va a sbattere con l'auto assolutamente. Piuttosto, mentre era in auto, viene affiancato da un'auto sportiva in cui i due giovani gli rivolgono parole ingiuriose, lo insultano. Lo insultano pesantemente. Pra perde il sangue freddo, perde la plob, estrae la pistola e intima agli occupanti dell'auto sportiva di fermarsi a bordo strada. C'è chi dice che spari anche un paio di colpi in aria. Ebbene, su quell'auto sportiva, uno dei due giovani non è un uomo, è una donna. Si chiama Alejandrina Cox. È una nobile donna. Molto conosciuta nel mondo del gest set e molto, molto riconosciuta dai cileni che la ritengono una donna bellissima e soprattutto molto influente. Ebbene, la Cox ci mette ben poco a sputanare il generale. A dire che il generale si è comportato da villano nei suoi confronti. Che il generale l'ha minacciata con una pistola. Praz si salva a stento dalla furia dei cileni che corrono sull'uovo. Ormai la sua carriera è finita e, per evitare ulteriori imbarazzi al governo Allende, si dimette. Ma le dimissioni di Praz segnano anche la fine della tutela del governo Allende da parte delle forze armate. Da quel momento in avanti gli eventi precipitano. I latifondisti, i grandi proprietari terrieri, i grandi industriali, i capi dei sindacati dei professionisti. Alcuni partiti politici iniziano a tramare per far cadere il governo Allende. E trovano una sponda. Una sponda decisa. Una sponda degli Stati Uniti d'America. Recenti sviluppi, dichiarati anche alla stampa, hanno chiarito il ruolo degli Stati Uniti. Effettivamente, la Central Intelligence Agency operò, come si è sempre detto, per facilitare il golpe. Erano a conoscenza gli americani dei malumori, dei mal di pancia all'interno della marina, dei carabinieros e di tante sigle all'interno del Cile. Lo sapevano benissimo. E non solo evitarono accuratamente di informare il governo cileno. No, fecero tutto il contrario. Appoggiarono, in qualsiasi modo, in certi casi anche a livello economico, queste proteste. Le cavalcarono. Perché? Perché Allende era il nemico. All'epoca, alla Casa Bianca, c'era lui, Tricchi Dicchi, Richard Nixon. E siamo già occupati a un video in questo canale. Ebbene, Nixon non vedeva di buon occhio Allende. Anzi, possiamo dire l'esatto contrario. Lo vedeva come uno dei peggiori nemici alla porta di casa. E arriviamo a inizio settembre del 73. Allende, conscio della situazione, inizia a parlare di un plebiscito. Far scegliere i cileni. Lo vogliono o non lo vogliono più? Vogliono continuare lungo la via cilena al socialismo o vogliono tornare indietro? Il Parlamento, però, ormai è contro Allende. Perché il Partito Nazionale e i cristiano democratici di Tomic si uniscono, fanno fronte comune, e decidono di chiedere ai militari di intervenire. Allende li censura. Dice che non si può invocare ogni volta l'arrivo dei militari per sistemare questioni politiche. Il 24 agosto del 73 Allende dice chiaramente al Congresso che la dichiarazione adottata, cioè la volontà di rivolgersi ai militari, è destinata a danneggiare il prestigio della nazione all'estero e a creare una grande confusione all'interno. Allende si pone come un argine, l'argine delle istituzioni contro il caos. Parla di pace civica, parla di sicurezza nazionale, parla delle istituzioni repubblicane, soprattutto Allende critica. L'utilizzo da parte degli altri parlamentari dell'espressione è stato del derecho, lo stato di diritto. Perché dicevano che l'estato del derecho non era quello di Allende, che era una situazione di ingiustizia economico-sociale, ma in realtà Allende dice che non è così, che è lui che sta facendo davvero gli interessi del Cile, che lo sta tirando fuori dalla fame a prezzo di gravi sacrifici. Ma non c'è niente da fare. Arriviamo appunto all'11 settembre del 1973. L'insurrezione parte dal porto, dalla Marina. D'altronde si sapeva, era la Marina Cilena il cuore della protesta militare. Ma ben presto si estende. Si estende anche all'aeronautica, i cui Jet Hawker Hunter iniziano a solvorare Santiago e a bombardare il palazzo presidenziale, la moneda, e si estende all'esercito. Non c'è più Praz a difendere Allende. Stavolta i generali sono contro il presidente e Allende reagisce nell'unico modo possibile. Chiama i cileni alle armi. Bisogna difendersi contro il tentativo di sovvertire la democrazia, di sovvertire il volere popolare. Ma è tutto inutile. Questa volta i carri armati tornano davanti alla moneda, come nel tanque tasso. Ma stavolta non c'è nessuno a richiamarli indietro. Allende dopo un po' capisce che è tutto finito. Il suo proclama alla radio non è servito a nulla. Manda a casa i collaboratori. Si chiude nel suo ufficio. Imbraccia la K-47 che gli aveva regalato Fidel Castro. E si spara una raffica alla testa, dal basso verso l'alto. Il suo medico personale anni dopo confermerà questa versione, dirà di aver visto Allende che premeva il grilletto, il cranio che vola via, colpito dai proiettili. Non viene creduto Urbi e Torbi. In tanti credono che in realtà Allende sia morto combattendo i soldati che entravano alla moneda o che sia stato catturato e poi ucciso dai rivoltosi. Certo, in assenza di evidenze assolute, anche le peggiori teorie possono trovare pa. Ma che si sia suicidato o che sia stato ucciso, poco cambia. La democrazia muore e muore male in Cile l'11 settembre del 1973. Al suo posto si insedia una giunta militare al cui vertice c'è lui, Augusto Pinochet. Un uomo che il mondo impara presto a conoscere e lo conosce nel modo peggiore. Perché Pinochet non si limita a uccidere la democrazia. Non si limita a far uscire della moneda i collaboratori di Allende. No. Instaura una dittatura. Una dittatura che non si era mai vista prima. È una dittatura che rastrella dagli oppositori per le strade, nelle case, nelle piazze. Gli rastrella e li fa sparire in maniera articolare. Gli oppositori inizialmente vengono radunati negli stadi. Quelli che dovevano essere dei luoghi di sport, di gioia, di gioco. Diventano luoghi di dolore e di morte. Dei lager a cielo aperto, tra i gradoni e i campi di calcio. E a ghiacciare quello che avviene in Cile. Dai lager tanti prigionieri spariscono nel nulla. Vengono uccisi, vengono sottoposti a torture brutali, vengono lanciati nell'oceano dagli aerei. Sarà una tecnica che verrà replicata successivamente dal vicino geografico del Cile, l'Argentina, che poco tempo dopo cadrà anche gli vittima di una dittatura militare. Ma se la dittatura argentina dura tutto sommato poco, perché cade in seguito al disastroso esito della guerra delle Falkland, Pinochet durerà molto, molto, molto più a lungo. Portando tanti lutti, portando tante sparizioni, ci saranno episodi come quello di Colonia Dignidad, una colonia di tedeschi, molti di questi con un passato nazista alle spalle, che dietro la maschera ufficiale di un campo agricolo nascondono un vero e proprio lager fatto di plagio dei giovani, di torture, di abusi, di pedofilia e di morti sanguinose. Dietro il regime di Pinochet, oltre alla lunga mano degli statunitensi, che lo appoggiano, lo appoggiano a lungo. Ci sono gli interessi economici e ci sono anche diversi criminali di guerra scappati, che appoggiano, addirittura partecipano alle violenze e alle torture. È questo ciò che fa più orrore dell'esperienza del Cile di Pinochet. Un'esperienza che si chiude solo verso la fine dello scorso millennio. Un'esperienza che dura a lungo e che vede anche episodi controversi, come la visita del pontefice Giovanni Paolo II in Cile, con tanto di stretta di mano e foto sul balcone assieme al dittatore. Abbiamo parlato nel video dedicato proprio alle ombre del pontificato di Voitigua. Certo, diversi suoi biografi azzardano che Pinochet fu furbo, approfittò della situazione per farsi scattare la foto e così legittimare in un paese molto molto cattolico il proprio governo brutale, grazie alla sorta di benedizione o imprimatur da parte del pontefice. I critici, invece, dicono che Voitigua sapeva, era stato informato, sapeva di cosa avveniva in Cile e fece finta di nulla, perché in fondo il nome dell'anticomunismo andava bene così. Restano diverse storie sul Cile di Pinochet e soprattutto su quel colpo di Stato. Diversi punti interrogativi. Uno riguarda anche noi italiani. Avete mai sentito parlare di coach Dan Peterson? Scommetto di sì. Se eravate bambini o ragazzi degli anni 80 o prima ancora degli anni 70, ve lo ricordate. Gli anni 80 Dan Peterson diventò un personaggio mediatico molto presente, commentando il wrestling e televisione, oltre a guidare l'Olimpia a Milano a fare incetta di scudetti e coppe, ma anche diventò testimonial di una nota marca di bevande in televisione. Ebbene Dan Peterson arrivò in Italia nel settembre 1973, in corrispondenza col colpe in Cile. E voi direte, ma che problema c'è? Un americano? Cos'è? Dubitiamo di tutti gli americani? Beh, non è che dubitiamo di tutti gli americani. Ma sapete cosa faceva Dan Peterson prima di arrivare a Bologna? E come arrivò a Bologna? Ve la raccomo. Nel 1973 la Virtus Bologna vuole ingaggiare un coach itano americano, Rolly Massimino. Sono già d'accordo su tutto. Se non che qualche settimana prima Massimino si tira indietro. Ha un'offerta da un college importante. Però, per non lasciare a bocca asciutta il presidente della Virtus, l'avvocato Porelli, gli propone un giovane allenatore che lui conosce e per cui garantisce. Si chiama appunto Dan Peterson e in quel momento è in Cile, alla guida della nazionale di paracanestro cilena. Peterson accetta, prende il volo e se ne va a Bologna, proprio in contemporanea con il golpe. Va via un paio di giorni prima. Certo, quando atterra Bologna l'avvocato Porelli per un attimo non gli prende un coccolone. Se aspettava un allenatore, si vede arrivare un nippi. Immaginate Dan Peterson con i capelli lunghi da qua, la giacca a scacchi, i pantaloni a zampa, gli stivaletti alla Beatles. Insomma, gli manca solo la chitarra a tracolla. Ci siamo capiti. Ma comincia a girare insistentemente nell'ambiente sportivo la voce secondo cui Dan Peterson fosse in realtà un agente della CIA che aveva esaurito il proprio compito e cui era stato detto di andarsene dal Cile prima del disastro. Verità o menzò? Qualche altro allenatore in Italia, come il debate Valerio Bianchini, ci hanno un po' speculato sopra. Certo, Peterson ha sempre respinto con sdegno questa voce, però continua a circolare. E c'è un'altra leggeta sul golpe. Non so se avete mai visto alcune foto di Allende. Ce n'è una in particolare, in cui lui veste qualcosa di particolare in vita, un grembiule massonico. Sì, perché Salvador Allende era massone, era stato maestro della propria loggia. Ma anche Augusto Pinochet lo era. O meglio, Pinochet chiese di aderire, entrò in loggia. Fu iniziato come apprendista, ma non andò mai oltre quel grado. I maliziosi potrebbero vederci una vendetta, magari per aver evitato di far carriera all'interno della massoneria, o perché l'idea di Allende, condivisa da parte della massoneria cinena, cozzava con le ambizioni dei militari. E ovviamente, Pinochet, la militare la pensava in maniera differente. Sono tutte storie. Sono storie che si accavallano, che si intrecciano, che trovano ferme e smentite. Purtroppo, quello che possiamo dire noi, di dentro la storia, è che i colpi cileno fece scuola all'Argentina, ma anche alle altre dittature del Sud America in zona. Uno dei passi della cosiddetta operazione Condor, la normalizzazione del Sud America da parte degli Stati Uniti, una normalizzazione anche economica attraverso un cambio fisso delle monete locali col dollaro statunitense. Un'iniziativa che poi avrebbe distrutto le economie della zona, come si sarebbe visto tra fine anni 90 e inizio anni 2000. Ma questa è tutta storia.